Siamo a circa 50 mila nautiche dalla zona dove inizieremo le operazioni di search and rescue a circa 35-40 mila dalle coste bibiche. Le operazioni effettive inizieranno più o meno in serata e in questi giorni ci siamo concentrati per preparare sia la NAME che il team alle operazioni che dobbiamo intraprendere. Ieri abbiamo fatto l'ultima esercitazione in mare lanciando i libri, i nostri due commoni e facendo le ultime prove per vedere che il team fosse pronto e fosse affiattato per le operazioni che dobbiamo intraprendere. Questa mattina abbiamo fatto gli ultimi drifting per preparare tutti. La nave è stata equipaggiata, tutti i dispositivi galleggianti che possono servire in caso di situazioni di persone in mare sono stati preparati. Il tempo, il meteo per ora sembra buono e favorevole e speriamo di essere il più utili possibili in questa situazione di emergenza che sta affingendo il Mediterraneo sul pane.